E ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo video su PES 2021 MyClub Oggi andiamo a vedere un po' con qualche giocatore ragazzi Vediamo un po' con cosa abbiamo, abbiamo i giocatori del Inter e del Napoli E poi abbiamo un bel regalo Davis, ragazzi questo arriva a 97 Bel regalo ci ha fatto, poi abbiamo le icone del Barcellona Le icone del Bayern Monaco Qua un'icona a caso qua Napoli, Inter, giocatore della settimana e palloni oro Andiamo subito con i primi palloni oro Vediamo cosa becchiamo Ok, MyClub Andiamo a Eliano, vabbè un paese così sconosciuto Socrates, dalla Grecia E se ne va subito da dove è venuto Proviamo con un altro pallone oro Vediamo un poco MyClub, MyClub, vediamo, vediamo Stata Spagna E Spagna ragazzi Spagna, Atletico Madrid Della Spagna Questo giocatore di nazionalità croata Però non ci serve questo Andremo a sparmare poi su Davis Probabilmente Ok Ma andiamo subito ad aprire Davis Visto che ci siamo ormai Eccolo qua, Davis Vedete, parte da 89 ma arriva a 97 Quindi ottimo giocatore, ci hanno regalato Poi è un vero campione talento Perché è anche giovane E' anche giovane Qua MyClub non c'è nemmeno bisogno di vedere In realtà perché sappiamo che lui Davis 20 anni ragazzi Ben 20 anni infatti Questo c'ha Ottimo E ce lo teniamo raga Ma andiamo subito Con la prima puntata ragazzi Perché voglio vedere un po' Così riesco a beccare Elkan ragazzi Elkan ragazzi Che arriva a 95 Questo si è sempre dimostrato Un portiere invincibile A mio parere Quando l'ho beccato durante le partite Poi abbiamo Beckenbauer Che è anche forte E poi Elber ragazzi Quindi procediamo subito Con il primo giro Via, vediamo un poco 100 monete per Can Vediamo un poco Chi esce E niente raga Non è uscito niente Vabbè esce proprio una ciofeca E se i Zenith Ciofeca assurda raga Vabbè ce lo siamo pure tenuti Non lo volevo però E andiamo con il prossimo Vediamo un poco MyClub Niente ancora Niente ancora Stavolta Italia Vediamo chi esce Juventus Betancourt Che tanto noi ce l'abbiamo già potenziato al massimo Quindi non è che ci serve Però teniamo Poi andiamo Di nuovo con Qualche Palla oro Qua Ecco qua MyClub MyClub Vediamo Vediamo Inghilterra Inghilterra Vediamo chi è Pallone oro Dell'exercito Portiere Non ci serve Non ci serve Se magari becchiamo Can Possiamo allenarlo con questo Andiamo ancora a vedere Se becchiamo Il can Vai A 300 monete E niente ancora E niente ancora ragazzi Peccato veramente Francia Francia Vediamo chi esce Argentoni Stanno uscendo tutti Argentoni pure Quindi Proprio Pessimo Ok Andiamo con L'ultima Palla oro Di giornata Vediamo 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 un poco E' il giro Del mappamondo Espagna 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 Raga Argento Terreal Madrim Mendy Buono Questo ragazzi Questo posso Convertirlo Su quell'altro TS Che c'ho già Del Mendy Potenziato Ottimo Ottimo Veramente Il Mendy E andiamo Con le ultime Per Can Vediamo un poco Raga Vediamo Vediamo E niente Nemmeno adesso E' uscito Adesso Buono Altro paese Bei capelli Questo C'ha Complimenti Complimenti Non ci serve Nemmeno Quindi lo Scarsiamo Ok Andiamo di nuovo Col pallone Qua Dai Can Esci Esci Can Dai E niente Ancora Ah E' uscito Del Coman Coman Che è E' francese Si Francia Ce lo teniamo Questo Per gli europei Potrebbe servire Ragazzi Iniziate pure a tenervi Qualche Pallone Delle nazionali Perché Quest'estate Ci saranno Europei Quindi Matchday Saranno Con le nazionali Principalmente Quindi Andiamo Andiamo Con l'ultima Per Can Dai Can Dai Can Dai Can Dai Can Esci Esci Can Dai 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 Che ci Servi Per completare Attenzione Iconic Moment Attenzione Vediamo Che esce Vediamo Vediamo Oh E' non è uscito Can Però Mannaia E' uscito Elber Va a finire Quello più schifoso Ok Grande Elber Vabbè Vabbè Raga E vabbè Andata così Questo Vabbè Ormai Ce lo teniamo 89 Però Abbiamo beccato Un Iconic Moment Facciamo L'ultimo Ragazzi Insomma Mi sento Qualcosa Lo farei L'ultimo 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 Così E niente Vabbè Così Atletico Madrid Dell'Argentina Questo qua Invece Possiamo Scartarlo Tranquillamente E Ciao Ciao Bene Ragazzi Per oggi E' tutto Abbiamo Pescato Comunque Un Iconic Moment Del Bayer Monaco Che Non è Una cosa Proprio Ovvia Perché E' Molto Difficile Pescare Iconic Moment Quindi Buono Lo stesso Dai Poteva Uscire Can Però Abbiamo Preso Anche Il Davis Anzi Andiamo A vedere Subito Il Davis Se Riusciamo A Potenziarlo Un Pochino Andiamo Su Davis Allora Dove Stai Dove Stai Eccolo Qua Raga 45 Livelli C'ha Questo Centrocampista Lo buttiamo Questo Lo buttiamo Sull'altro TD DC TD Questi Qua Io vi consiglio Sempre Di buttare Comunque Ruoli Vicini A quello Che volete Allenare Quindi Vedete Che sono Più Alti No 86 Anzi Aspettate Che Non voglio Buttare Mendy Eccolo La Non lo Butto Sopra Quello Vai Proviamo Così Vediamo Arriva A livello 10 Siamo A 91 Solo Però Adesso Però Ci abbiamo Anche Altro Qua Guardate Qua Cosa Abbiamo Vediamo Un Poco Allora 25 27 28 29 Mi sembra 30 Ci arriva Già Però Proviamo Così Allora Allora Arriva 95 Adesso Velocità Quanto c'è Mamma mia Assurdo 99 Di velocità 99 Di accelerazione Un pazzo Questo giocatore Allora Proviamo Ancora Vai Proviamo Proviamo A 35 35 35 Raga 96 Dai che Ci siamo Quasi Vediamo Vediamo Che Ce n'ho Un bel po' Eh 37 37 Entro 8 30 Vediamo Così 39 Niente Oh Non arriva Ancora Porca Miseria Quanti Ne dobbiamo Buttare Mamma mia Mamma mia Sto Buttando Tutti Su Queste Vabbè Però È Lui È Devis Che vogliamo Fa Ecco Qua Arrivata 97 Ottimo Ci sarebbero Ancora Altri Livelli Però Per adesso Mi fermo Qua Anche Perché Non Vuoi Resprecare Tutto Quanto Ok Ragazzi Per oggi È Tutto Come Sempre Vi ricordo Di iscrivervi Al canale Per rimanere Sempre Aggiornati Sui prossimi Video Lasciate Un bel Like Su Questo Video Per L'icona Trovata Per Davis E Ciao A Tutti